facciamo noi una considerazione sulla speranza dunque secondo me si può raggiungere un buon livello di star bene io ovviamente sono ancora in cura presso il servizio di igiene mentale prendo le mie medicine quindi si può arrivare a un livello di parità cioè convivere con le medicine stando bene quindi io per esempio adesso le voci non le sento più da due anni però le medicine le prendo lo stesso perché sono considerato ancora un malato vuole dire qualcosa anche a med molto probabilmente del mio caso questa cosa degli uditori si è scatenata dalla solitudine dalla solitudine si arriva dopo alla paranoia e dopo si arriva a dire le voci per me è stato questo qui il fattore scatenante della mia del mio vissuto e degli uditori che ogni tanto riempare però grazie molte a med grazie a tutti Grazie a tutti.